The Selection, la rassegna stampa dell'indipendente con le notizie più importanti dal mondo. Lunedì 26 giugno 2023. Accadde oggi nel 2015. Una sentenza della Corte Suprema legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutti gli USA. Attualità. Bruxelles approva lo spionaggio sui media per ragioni di «sicurezza nazionale». L'obiettivo dichiarato era quello di «salvaguardare la libertà». Il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'UE. Ma nella bozza approvata dal Consiglio dell'UE è previsto che gli stati membri potranno usare un «software di sorveglianza intrusivo» in qualsiasi dispositivo o macchina utilizzata dai media, dalla redazione o da qualsiasi collaboratore, per questioni di «sicurezza nazionale». In buona sostanza, per non meglio specificate ragioni di sicurezza gli stati potranno spiare ogni dispositivo dei giornalisti. Secondo quanto riportano le cronache di Bruxelles la deroga è stata chiesta dalla Francia e sostenuta da Germania, Olanda, Repubblica Ceca e Lussemburgo. Gli altri stati, tra cui l'Italia, non sono intervenuti a sostegno della proposta francese, ma non l'hanno ostacolata. Ora inizieranno i negoziati con il Parlamento europeo in vista dell'approvazione definitiva. Molte associazioni per la libertà di stampa sono intervenute duramente. Tra queste reporter senza frontiere che ha definito il provvedimento, un assegno in bianco per una sorveglianza sfrenata, un passo breve dalla forma più cruda di spionaggio poliziesco e una porta aperta agli abusi. Roma. Migliaia in piazza in difesa della sanità pubblica. Migliaia di persone si sono ritrovate a Piazza del Popolo, a Roma, per chiedere la fine dello smantellamento dalla sanità pubblica. La manifestazione è stata indetta dalla CGL e appoggiata da oltre 100 sigle del mondo della sanità e dell'associazionismo. Le richieste. Fine dei tagli al fondo sanitario, potenziamento della rete ospedaliera, sviluppo dei servizi territoriali, abbattimento delle liste di attesa, maggiore attenzione alle persone non autosufficienti, potenziamento sia degli organici che delle loro retribuzioni. Infine un ruolo più forte dei servizi della prevenzione, ispettivi e di vigilanza che metta fine agli incidenti e alle morti sul lavoro. Il segretario della CGL ha promesso che l'appuntamento di Roma è stato solo il primo appuntamento e nelle prossime settimane verranno lanciate, vertenze e iniziative in tutto il territorio per allargare la mobilitazione. Dopo la riforma l'AIFA approva farmaci a velocità doppia, mentre si dimettono i tecnici. È caos all'Agenzia Italiana del Farmaco. Nelle ultime settimane si sono infatti susseguite le dimissioni di tecnici ed esperti esterni. Giovedì scorso se ne sono andati in blocco gli oncologi nominati nel gruppo di lavoro sulle terapie anticancro, denunciando di essere mai stati convocati per esprimere il loro parere sull'efficacia di farmaci e terapie da approvare. A loro, nel fine settimana, si è aggiunto l'epidemiologo Antonio Addis, uno dei membri della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia. Addis non ha fornito spiegazioni al suo gesto, ma il malessere dei tecnici è probabilmente legato alla controverso riforma dell'AIFA approvata dal governo Meloni, che come avevamo anticipato sull'indipendente a brevia e rende più semplici gli iter di approvazione per i farmaci, riducendo il controllo indipendente sul processo decisionale. Una ipotesi rafforzata dagli ultimi dati presentati dalla stessa AIFA, che ha reso noto come nell'ultimo anno la rapidità degli iter di approvazione dei farmaci sia aumentata del 50% rispetto al 2020. Esteri e geopolitica. Russia. Termina con un accordo l'ammutinamento del gruppo Wagner. I mercenari russi del gruppo Wagner, a seguito di un accordo, si sono ritirati durante la notte di sabato dalla città di Rastov, nella Russia meridionale, che avevano conquistato nella loro «Marcia per la giustizia», che sarebbe dovuta arrivare a Mosca per deporre i vertici della difesa russa. Si è concluso quindi quello che inizialmente era a parto un tentativo di colpo di Stato ai danni di Vladimir Putin. In base all'accordo mediato dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, con il benestare del presidente russo Vladimir Putin, i combattenti del gruppo Wagner sono tornati alle loro basi e avrebbero ricevuto in cambio garanzie per la loro sicurezza e per quella del loro leader, Yevgeny Prigoin, che si sarebbe ora trasferito in Bielorussia. I fatti di questi giorni, ad ogni modo, lasciano diversi interrogativi sulla stabilità del potere in Russia, che troveranno risposta verosimilmente nelle prossime settimane. Sudan. Violenti combattimenti nella capitale e nel Darfur. Domenica sono stati riportati violenti scontri a fuoco e attacchi aerei nella capitale del Sudan, Khartoum. La guerra tra esercito regolare e miliziani golpisti delle cosiddette forze di supporto rapido, che si protrae da ormai 11 settimane, ha provocato lo sfollamento di 2,5 milioni di persone e una crisi umanitaria che potrebbe ulteriormente deteriorare. Fonti locali hanno inoltre riferito di un forte aumento della violenza negli ultimi giorni a Niala, la più grande città della regione occidentale del Darfur. Sabato le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per gli attacchi etnici e l'uccisione di persone della comunità masalita e il geneina, nel Darfur occidentale. A poco sono serviti fino ad ora gli sforzi di mediazione da parte di Stati Uniti e Arabia Saudita che hanno prodotto solo brevi cessate il fuoco, per lo più mai rispettati. Il Fondo Monetario Internazionale si appresta a imporre l'austerity al Pakistan. Il Pakistan ha modificato il bilancio per l'anno finanziario che inizierà il prossimo primo luglio, recependo le ultime misure di inasprimento fiscale dettate dal Fondo Monetario Internazionale, FMI, per ottenere lo sblocco di un pacchetto di salvataggio. Il paese dovrà raccogliere ulteriori 215 miliardi di rupie, circa 752 milioni di dollari, in nuove tasse e taglierà 85 miliardi di rupie dalla spesa pubblica. Previste inoltre una serie di altre misure per ridurre il deficit fiscale. L'accordo tra il Pakistan e il Fondo Monetario Internazionale deve essere ratificato entro il 30 giugno per sbloccare prestiti per 6,5 miliardi di dollari. Ambiente La marina americana è accusata di aver insabbiato pericolosi rifiuti radioattivi. La marina degli Stati Uniti è stata accusata di aver insabbiato pericolosi rifiuti radioattivi in un ex cantiere navale di 16 ettari nel quartiere Hunters Point di San Francisco. Le accuse derivano dai test effettuati dalla stessa marina militare nel 2021, secondo i quali 23 campioni di suolo della proprietà presentavano elevati livelli di stronzio-90, un isotopo radioattivo che sostituisce il calcio nelle ossa e provoca il cancro. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha così lanciato l'allarme ma, nel 2022, la marina ha dichiarato che i suoi test erano imprecisi e ha prodotto una nuova serie di dati che mostravano livelli di stronzio-90 inferiori a zero. Un'incongruenza che, secondo diversi esperti di salute ambientale, è stata ora ritenuta impossibile. In Europa sta aumentando la pesca sostenibile. La pesca nell'Unione Europea è sempre più sostenibile. A certificarlo è stato un rapporto pubblicato recentemente dalla Commissione Europea, secondo il quale il numero degli stock ittici eccessivamente sfruttati nei mari europei è significativamente diminuito rispetto al 2003, quando la maggior parte degli stock UE era pesantemente sovrasfruttata. Inoltre, ad oggi, i pescatori stanno traendo vantaggi socio-economici dalla gestione sostenibile di alcuni stock. Il tasso di mortalità per pesca è diminuito e la biomassa delle riserve ittiche è in aumento. Nel complesso, ciò sta contribuendo a migliorare la redditività della pesca stessa e ad incrementarne l'efficienza in termini di emissioni di carbonio. La situazione migliore è stata registrata nel Golfo di Biscaglia dove, nel 2021, non c'è stato sovrasfruttamento, mentre ulteriori sforzi sono necessari nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Ancora critica, invece, la situazione nel Mar Baltico soprattutto a causa dell'inquinamento. Fotovoltaico. Coldiretti denuncia il consumo di suolo fertile in Italia. In una lettera inviata al governo, il presidente dell'Associazione Coldiretti ha denunciato il consumo di suolo fertile a causa dello sviluppo del fotovoltaico nel settore agricolo italiano. Secondo i dati più recenti, sono stati coperti con pannelli fotovoltaici 246 ettari di suolo nel 2019, 242 ettari nel 2020 e 70 ettari nel 2021. Nel complesso, ad oggi, risultano occupati da fotovoltaico 17.560 ettari di terreno. La regione maggiormente interessata dal fenomeno è la Puglia, seguita dall'Emilia Romagna e Lazio. Secondo la Coldiretti, la soluzione per armonizzare le esigenze di produzione di energia rinnovabile con quella alimentare sta nel favorire le installazioni fotovoltaiche sui tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole. Ovvero, in una superficie totale, disponibile e già utilizzabile, pari a 155 milioni di metri quadri. Tecnologia e controllo. Twitter ha lavoro per rispettare le leggi UE. Twitter ha fatto entrare le autorità europee nei suoi uffici per vagliare quali misure siano state prese per combattere la disinformazione e rispettare quel Digital Service Act, DSA, che entrerà in azione tra un paio di mesi. Il test, effettuato in chiave volontaria, è il primo del suo genere e rappresenta la tacita promessa dell'azienda di Elon Musk di impegnarsi a rispettare i termini del DSA, che include il controllo sulla «disinformazione», nonostante i ripetuti proclami in favore della totale libertà degli utenti. Thierry Breton, il commissario che supervisiona la DSA, si è detto ottimista, ma ha fatto notare che il social ha ancora molto lavoro da fare. Mosca ha bloccato l'accesso a Google News. A seguito della ribellione delle truppe di Wagner, Mosca ha deciso di bloccare l'accesso in Russia a diversi aggregatori di notizie, tra cui Google News. Ad aver aderito all'iniziativa censoria sono almeno cinque compagnie telefoniche, prime tra tutte Rostelecom, ULAN e Telplusl. Grazie per aver ascoltato The Selection, la rassegna stampa dell'indipendente. Rimani aggiornato su www.l'indipendente.online.